Presidente, partiamo dal Superbonus. Oggi il Commissario Europeo Gentiloni ha detto che è giusto eliminarlo gradualmente e per il Governo costa 70 miliardi di euro più del previsto. Voi cosa rispondete? La notizia è che oggi la Commissione Europea ha certificato che senza il Superbonus crollano PIL ed economia italiane. E attenzione, sono state smascherate finalmente le bugie del Governo. La verità è che col Superbonus abbiamo avuto un ritorno di 200 miliardi di euro, abbiamo avuto un milione di posti di lavoro in più. Tutta l'economia europea sta frenando e allora per sostenere la crescita in vista della manovra, le vostre proposte quali sono? Il Governo ha tirato il freno a mano e invece noi abbiamo bisogno di incentivi per le imprese che assumono, per le imprese che innovano e il Governo deve battere anche un colpo, non l'ha fatto fin qui, contro il carovita. Sono aumentati i generi alimentari, mutui, benzina e anche i libri scolastici. Ieri notte un'altra stesa a Caivano. Che cosa proponete per contrastare la criminalità e il disagio giovanile? Evidente che il Governo sta fallendo anche sulla sicurezza. Ha già fallito sugli sbarchi che sono più che raddoppiati. Occorre offrire alle aree più disagiate qualità di servizi, lavoro, nuova occupazione e soprattutto preoccupa tanto il taglio del Governo ai PNRR di 6 miliardi che riguardavano proprio sicurezza e riqualificazione delle periferie.